Vigili del fuoco Salerno? Sì. 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 Oltre 100 interventi hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno per quasi 24 ore consecutive. Squilla ancora stamani, anche se con minore intensità rispetto a ieri, per richieste di intervento per allagamenti e situazioni di pericolo, per chiedere aiuto ai caschi rossi, il telefono del centralino del 115. Tra operazioni di allagamenti e di edifici e strade invase da acque e detriti, soccorsi ad automobilisti in difficoltà e rimozioni di alberi caduti e pericolanti, caduta di calcinacci, diverse squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto far fronte all'emergenza dettata dalle forti piogge. L'allerta gialla per il rischio idrogeologico continuerà per tutta la giornata e fino a mezzanotte di oggi, mentre ieri la conta dei danni è stata alta. Le criticità il giorno dopo le improvvise bombe d'acqua che hanno riversato fiumi di fango e detriti nella valle dell'Irno e dell'Agro Nocerino Sarnese, ancora stamani, si registrano esclusivamente nell'area nord e precisamente nel comune di Rocca Piemonte, dove a scopo precauzionale è stata evacuata una casa di riposo di via Caracciolo. Le drovore dei vigili del fuoco stamani sono state utilizzate ancora per aspirare grosse masse d'acqua degli ultimi allagamenti sia a Scafati che a Rocca Piemonte. I vigili del fuoco in fase di emergenza proprio ieri con un gommone sono riusciti a fare evacuare 35 anziani che sono stati momentaneamente ospitati in una scuola elementare di via Ferrentino. L'esondazione del torrente Solofrana ha portato ad allagamenti nei comuni di Castel San Giorgio, Mercato San Severino, ha provocato disagi e allegamenti sia al campus di Fisciano che sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Alla sala operativa dei vigili del fuoco di Salerno, diretti dalla comandante Rosa Adeliseo, sono arrivate numerose richieste per persone rimaste bloccate in auto, scantinati allagati e manufatti di velti. Per questo sono stati inviati sul posto le squadre di Sarno, Nocera e Mercato San Severino, con il supporto dei reparti Speleo-Alpino-Fluviali dalla sede centrale. Dopo gli interventi di soccorso a persona i caschi rossi hanno provveduto anche a svuotamenti di cantine e rimozione di manufatti. Al momento non ci sono particolari criticità in atto, come ha confermato ai nostri microfoni il caporeparto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno, Gerardo Genovese. Sì, tantissimi gli interventi ovviamente dei vigili del fuoco, circa 100 nella giornata di ieri, in particolar modo concentrate nel primo pomeriggio. La zona particolarmente interessata da questa perturbazione è stata l'agro nocerino sarnese, i comuni di Castel San Giorgio, Rocca Piemonte, Nocera, Mercato San Severino. Particolarmente attenzionata la zona di Rocca Piemonte, dove a seguito delle sondazioni della Solofrana è stato necessario evacuare 35 ospiti di una RSA Domus De Maria, i quali sono poi stati destinati in una struttura scolastica, e quattro nuclei familiari che grazie appunto al supporto di parenti sono stati ovviamente accolti dai propri familiari. Abbiamo attualmente ancora situazioni di criticità su Rocca Piemonte, dove stiamo attualmente operando, e anche su Salerno e sugli altri comuni limitrofi. Ovviamente stiamo provvedendo alla rimozione di alberature e di altri danni provocati appunto dal cattivo tempo, tipo distacco di intonaci e quant'altro. Ci sono stati altri soccorsi a persone che sono trovate in difficoltà, magari anche imprigionati in auto o in altre situazioni? Sì, sì, qualcuno a seguito dei allegamenti di sottopassi è stato necessario appunto l'intervento per il recupero, ma interventi di routine. Anche su Salerno abbiamo normalmente queste situazioni che si vengono a determinare a seguito delle grosse precipitazioni meteoriche, quindi è un intervento che risulta abbastanza frequente per quanto riguarda i vigili del fuoco. Una vera e propria bomba d'acqua, quella di ieri, che ha interessato diversi comuni della provincia di Salerno. Anche per voi un super lavoro, c'è stato anche l'intervento di altri distaccamenti e del comando a non solo di Salerno. Sì, sì, ovviamente è intervenuto. Noi quando abbiamo queste criticità richiediamo il supporto. Ieri è intervenuta anche una squadra da Benevento, abbiamo richiesto il sorvolo dell'elicottero appunto del nostro nucleo, e una squadra speglio fluviale proprio per il recupero di persone ovviamente in casa. Quindi abbiamo fortunatamente tante specializzazioni che mettiamo in campo quando si ripresenta l'occasione. Purtroppo le precipitazioni sono intense e si concentrano in poche ore grosse quantità di acqua, che determinano appunto queste situazioni. Ci sono stati anche stabili che sono stati evacuati al di là insomma della residenza di Roccapiemonte, dove sono create infiltrazioni e che è stato necessario sgomberare famiglie? No, no, al momento nessuna criticità di questo tipo. Si spera ovviamente nel bel tempo, le previsioni annunciano miglioramenti già nelle prossime ore. Questa mattina, lei diceva, anche nella città di Salerno sono arrivate diverse chiamate per alberi caduti, calcinacci. Sì, confermo che stiamo provvedendo alla rimozione di alberature, di stacchi di intonaci e quant'altro. La situazione dovrebbe migliorare a momenti, quindi sicuramente rientreremo nell'attività ordinaria. L'invito ovviamente va sempre fatto ai cittadini quando ci sono questi eventi meteorologici un po' particolari, di restare in casa, di evitare di prendere l'auto, insomma per evitare anche scongiurare pericoli. Sì, se si aziona che possa mettere a rischio la propria incolumuità va ovviamente evitata, quindi evitare di imboccare sottopassi, strade particolarmente allagate, anche se vi ricordo che a Salerno abbiamo, nonostante in piena città, abbiamo situazioni che possono determinare grosse condizioni di pericolo, tipo via Venner, quella che costeggia Siniscalchi, per capirci, sottopassi che vengono chiusi regolarmente. Grazie.